Musica Allora anche il circolo del tennis che si trova proprio nel polmone verde delle cascine qui a Firenze nel polmone verde di Firenze parteciperà all'evento BB Cascine, soddisfazione Sì, parteciperemo con vero piacere, si sta mettendo a punto i dettagli, ancora non siamo entrati nello specifico però è una manifestazione a cui daremo il nostro apporto con molto entusiasmo Un modo per far tornare i fiorentini a vivere il parco delle cascine che è importante? Sì, noi poco prima organizzeremo il torno internazionale giovanile città di Firenze che come tutti gli anni sarà aperto gratuitamente a tutto il pubblico ma ci sarà spero ancora un'altra occasione e in occasione del BB Cascine per riaprire nuovamente il fattore del tennis alla città di Firenze